Questa non si può chiamare, che a vita dovrebbero provare cosa vuol dire postare a testare la c'è tutto a capire tutto, che non poter più comunicare, che sentire tutti i dolori, che ti aiuti, che soffrire, che non ho a nessuno e spero che la camera venga modificata o comunque con questo che è passato al Senato, che è una presa in giro per tutti i sofferenti, di tutte le malattie, che ce ne sono tantissime, che soffrono in silenzio e non lo trovo. Grazie. 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 Grazie.